RINUNCIA ALL'ASSISTENZA LEGARE RINUNCIA ALL'ASSISTENZA LEGARE RINUNCIA ALL'ASSISTENZA LEGARE RINUNCIA ALL'ASSISTENZA RINUNCIA ALL'ASSISTENZA RINUNCIA ALL'ASSISTENZA La vendetta era impressa all'interno della mia testa Sto seguendo qualcosa di migliore adesso. Un Vermeer. I.V.M. Johannes Vermeer. Signor Van Miegeren, dagli atti emerge che lei questo Vermeer l'ha venduto. Non è un Vermeer. E allora cos'è? I Voimats, i Mauritaso, se lo contendono per mezzo milione. Giovane Cristo al Tempio, un milione e duecentocinquantamila fioridi. Quattro parole, l'ho fatto io. Ai sensi della legge sulle normative eccezionali chiedo il massimo della pena. Sì, dipingere come Vermeer. Van Miegeren lo sa fare.